Ora andiamo a fare un po' un piccolo riassunto, andiamo un po' a mettere insieme tutti i pezzi del puzzle visti fino ad adesso, lato interfacce classica, cerchiamo di metterle in comunicazione, quindi andiamo a creare un file nuovo per non andare a fare un disastro ulteriore in questo file che ha di per sé abbastanza complesso e lo chiameremo riassunto classi, senza essere troppo fantesi, .ts. Verrà creato all'interno anche della nostra folder di dist e quello che andremo a fare sarà creare per primo un'interfaccia che chiameremo appunto take photo, take photo che avrà al suo interno camera mode che sarà una stringa, camera on che sarà un booleano e poi ci portiamo dietro take photo e magari take video. Facciamo così, take video. E questa sarà la nostra interfaccia. Se adesso io definissi la mia classe, chiamiamola, va bene anche phone ma possiamo essere un pochino più moderni, Instagram, Instagram, Instagram. e voglio che implementi quella che è la mia classe take photo. Io quello che posso andare a fare prima di tutto è notare che in questo caso la nostra classe sta piangendo perché non sta implementando in maniera corretta la nostra interfaccia. Implementa è la parola riservata che va a dire appunto che una classe deve implementare un certo tipo di interfaccia. L'interfaccia, lo scopo di interfaccia non è quello di definire come funziona ma che cosa va implementata e come esso poi ritorna agli elementi che vengono implementati e qual è il loro valore assoluto, che tipo di valore assumeranno. Quindi in questo caso andiamo a definire quello che è un costruttore che avrà appunto public, public, camera mode e camera on che saranno appunto una stringa e un booleano e poi avrà dei metodi che sono take photo che non farà assolutamente nulla per noi e anche take video. A questo punto la nostra applicazione è soddisfatta perché va appunto a implementare in maniera corretta la nostra interfaccia. Cioè se io definissi un'altra interfaccia che è magari reel, vogliamo che un reel abbia, mettiamo, vabbè, duration che è un number. Qualora appunto io definissi che ad esempio la classe TikTok implementa sia take photo che reel, quello che posso andare a fare è di nuovo riprodurre questo metodo portandoci dietro anche quello che è il valore di public. Perché stiamo implementando due interfacce. Cosa molto importante da notare è che se io ad esempio in Instagram aggiungessi un carousel, un public carousel, dico che è un number, non mi viene impedito. Questo perché? Perché la cosa più importante di cui la mia interfaccia è garanzia è che tutto questo ci sia e mai di meno. Se io vado a raggiungere un di più alla mia interfaccia non interessa perché io ho il bisogno che se Instagram, che in questo caso TikTok, abbiano almeno implementate queste due soluzioni. Ok? Questo è molto molto importante. Vado a commentare temporaneamente quella che è questa classe perché voglio farvi notare qualcosa di abbastanza strano. Questo per farvi ben capire effettivamente quello che è l'utilizzo di queste, di questi elementi. Se io volessi definire, come abbiamo visto prima, che un metodo sia private o che una funzione sia private o quello che voglio che sia private, facciamo caso che io voglio che appunto camera mode sia qualcosa di private. Se andassi a definire in questo caso private otterrei un errore perché mi dice che il metodo private, scusatemi, la variabile private o comunque la proprietà private non è, la proprietà color mode non è private la mia interfaccia. Allora vi direte va bene, la vado a mettere come private, perfetto. Vado a mettere come private e questo non mi è concesso. Sembrerà strano e stupido uno può provare tutti i workaround che vuole ma comunque rimarrà incastrato in questa situazione. Questo perché sembra un comportamento strano ma quello che è lo scopo di un'interfaccia non è dirci come questo metodo debba essere implementato. Il suo scopo, lo scopo dell'interfaccia è dirci che deve esistere, ok? Che deve esistere questo metodo, deve essere implementato e deve essere una stringa. Che ci deve essere diciamo il suo scopo? Quindi chi implementa deve avere un elemento camera mode. Non ha il compito di dirci se sia privato, protetto o generalmente pubblico. Se non è dichiarato, di default è pubblico. Per lui però ci deve essere. Se io voglio che ci siano elementi private, protected o comunque abbiano un valore diverso, io devo toglierli da quelle che sono, da quella che è la mia interfaccia. Perché non è compito dell'interfaccia dire come essi vengano implementati. Questo è molto molto importante da ricordare. Non è il compito dell'interfaccia dire se sia privato, se sia protected, se quindi può essere, può concedere l'accesso solo alle sottoclassi, quindi solo le classi che reeditano, oppure non può essere visto dall'esterno di una classe. Questo è il compito della classe, non è il ruolo dell'interfaccia. L'interfaccia va a definire quelli che sono gli elementi minimi che devono essere implementati e resi disponibili. Ok? Questo è molto molto importante da ricordare.